Il mondo è in fiamme, rischio estensionismo, solo un giovane su due ritori, l'emergenza rifiuti torna anche quest'anno, e la vendita di cannucce di plastica posate e piatti, migliaia dei giovani stanno partendo per andare a combattere al fronte, nuovi venti di guerra nel cuore dell'Europa, un esercito europeo, questa la nuova proposta al centro del mondo, gli stipendi sono in calo del 10%, in tre anni aumenti del 15,4%, per colpa del cambiamento climatico più della metà delle stazioni sciste che europee si troverà in condizioni, quindi l'europeo, queste le nuove direttive per la sostenibilità, sempre più frequenti sono le proteste pacifiche che sfociano in violenza e scopri, le opinioni sull'immigrazione sono contrastate, vanno integrati, il cat-calling può sfociare in violenza, è quello a fare paura, non ti senti tranquilla, non ti senti libera di vestirti come vuoi, l'europea cerca di smantellare nuovi gruppi criminali internazionali, la natura internazionale della criminalità organizzata è un dato di fatto, il parlamento europeo, che dal 1979 è eletto direttamente dai cittadini, è il tuo punto di contatto alle decisioni importanti, quante più persone votano, tanto più forte sarà la democrazia.